Vico Pisano è un'antica roccaforte tra le più rilevanti della zona di Pisa. Strade, vicoi, antichi palazzi e torri medievali rimasti quasi intatti fanno di Vico Pisano uno dei centri storici tra più interessanti della provincia pisana. Il palazzo e pretorio con la torre si trovano nella parte alta di Vico Pisano, ma sotto, tutto il borgo, conserva ancora lo stile medievale, un luogo da visitare assolutamente. Il palazzo e pretorio con la torre si trovano nella piana dell'Arno, a ridosso dei monti pisani, e sulle sponde dell'antico lago di Sextum. Anticamente vi era un porto fluviale che collegava Vico Pisano a Pisa e Lucca. Passeggiando lungo le strade di Vico Pisano possiamo ammirare porzioni di antiche mura con le torri. Un vero passaggio nel tempo è facile intuire come era Vico Pisano nel medioevo. Siamo chi siamo Un giorno c'era un doppio arcobaleno Un giorno c'hanno attaccati a seno Un giorno c'hanno rovesciato...